Buon pomeriggio a tutti, è con immenso piacere che oggi pomeriggio diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore Francesco Baldini, del quale siamo orgogliosi. La scelta è ricaduta su Francesco per le qualità umane, per l'identità di gioco, per il fatto che storicamente è stato un nostro giocatore, quindi conosceva il nostro ambiente e perché ha un grande staff e un'identità di gioco che è ciò che ricercavamo, quindi rispondeva a tutti i nostri criteri di selezione ed è per questo che a lui do il benvenuto e al quale lascio la parola. Buonasera a tutti quanti, ringrazio Jacopo per le belle parole. Ci siamo scelti, Jacopo e il Presidente sono stati molto bravi, Jacopo è venuto addirittura, ci siamo trovati e è venuto pure a casa mia e ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ci siamo scelti e questa è una cosa molto importante. Ho scelto Perugia fin dalla prima semplice telefonata, mi andava di ritrovare quest'ambiente dove sono stato purtroppo per me e per voi verso la fine della mia carriera, mi sarebbe piaciuto arrivare prima, ero a Genova, nel Genoa e quando mi dissero preziosi mi disse se volevo venire a Perugia non ci pensai neanche mezzo secondo però arrivai che ero già quasi un ex giocatore, quindi il rammarico era quello, il piacere di ritrovare queste mura il piacere di ritrovare qualcuno di voi, il piacere di ritrovare gente che ho lasciato importante come Renzo Lucchini quindi non ci ho pensato neanche mezza volta insomma quando mi è stato proposto di venire qua ad allenare Grazie Allora per le domande, vostro nome e nome della testata, grazie Clero Bertoldi del Corriere dello Sport Buonasera Le chiedevo quali sono le idee che ha definito Giulia Relli identitarie del Perugia di Baldini Parto dall'attaccamento che è la cosa più importante in assoluto e le scelte che sono state fatte in questo periodo e le scelte che verranno fatte in questo periodo partono innanzitutto dall'attaccamento poi vi parlerà, io alleno e vi parlerà Jacopo delle altre cose però per me l'identità è una cosa molto importante Parto da un'idea di calcio non c'è un'idea di calcio giusta o sbagliata nel calcio si è vinto in tutti i modi possibili ed immaginabili io amo esprimere un certo tipo di calcio e quindi cercare di dominare le partite cercare di rubare la palla prima possibile agli avversari cercando di tenere palla cercando di dare una identità propositiva alla squadra e non distruttiva quindi queste sono sempre state le mie caratteristiche dal primo giorno che ho deciso di intraprendere questo mestiere e continuo a portarmelo indietro naturalmente in questi anni cercando di modificare, aggiustare tutte queste idee però rimangono ferme sul mio modo di vedere il calcio Mister, prima di tutto benvenuto a Perugia Daniele Cervino dal Quotidiano alla Nazione il Perugia siamo a fine luglio e non si sa ancora in che categoria giocherà se è in serie C o se è in serie B io domando come si fa a lavorare, quali sono le difficoltà di lavorare da tecnico per prima di tutto motivare i giocatori e quali sono gli stimoli e qual è la voglia di Baldini allenatore di riportare l'entusiasmo qui a Perugia dopo una cocentra retrocessione il mio compito, sicuramente uno dei miei primi compiti è stato quello di cambiare la faccia di questi ragazzi quando sono arrivato naturalmente, e parlo di quelli che avevano fatto l'anno precedente c'era, c'è, c'era, un po' l'abbiamo stemperata però c'era tristezza, come c'è tristezza nell'ambiente come c'è tristezza naturale dopo una retrocessione e questo compito che mi aspetta è un compito importante perché è vero che poi dopo saranno i risultati a portare l'allegria e la felicità ma io penso che ci sia anche un certo modo di far calcio un certo modo di proporre calcio Perugia storicamente è una piazza che ama il bel calcio quindi io ho il dovere di cercare di fare risultato però di costruire anche qualcosa a livello calcistico ho un compito il mio primo compito, ripeto, è stato quello di cercare ma non perché perché la mia metodologia di lavoro non la mia metodologia di lavoro una certa metodologia di lavoro facilita facilita il il venire volentieri al campo facilita il star volentieri con i compagni io penso che ci debba essere una componente di divertimento nell'allenamento per poi riportare questo divertimento in campo difficilmente una squadra che va in campo triste poi fa risultato quindi quello che è stato il mio primo approccio di questi 12 giorni è stato sotto questo punto di vista non sono parole mie sono parole di Velasco ci si diverte quando si fa le cose seriamente divertirsi non vuol dire venire qui e cazzeggiare io dico in toscano ma vuol dire venire qui e fare le cose seriamente beh qualcosa sta cambiando nella faccia dei ragazzi è già cambiato ripeto quello che ho detto prima così almeno ci leviamo qualsiasi tipo di dubbio le scelte che verranno fatte sui singoli giocatori si faranno in prima persona sul senso di appartenenza chi vuole rimanere a Perugia e naturalmente valuteremo che è adatto al tipo di calcio che vogliamo fare rimarrà a Perugia chi ha il minimo dubbio è giusto che è giusto che facciano la loro strada quindi il senso di appartenenza per me è fondamentale soprattutto dopo una retrocessione quindi questa è una cosa che voglio chiarire immediatamente buon pomeriggio Carlo Forciniti Correia dell'Umbria è una domanda se posso che faccio ad entrambi in questa settimana il Perugia si è cominciato a muovere con delle rescissioni consensuali con delle operazioni di mercato in uscita chiedo all'allenatore al dirigente anche a fronte di quanto è successo negli ultimi giorni quali sono le priorità se ci sono delle priorità ma anche rispetto al mercato in entrata perché è evidente che ci siano dei buchi da coprire se lei mi sta ha delle esigenze dal punto di vista appunto a livello di Rosa e se lei Giulia Relli magari è più propenso ad operare su un certo tipo di reparto in questo momento su un altro su una zona di campo piuttosto che un'altra grazie vai allora per quanto riguarda le scelte che verranno fatte da qui al termine del mercato è chiaro che non lo dobbiamo nascondere nel momento in cui cambiamo dal punto di vista di sistema di gioco la scelta di passare a un 4-3-3 è naturale che ci sono alcuni ruoli che sappiamo dal play ai laterali bassi agli esterni d'attacco che saranno ovviamente delle priorità da portare avanti quella che oggi viene definita una mancanza in realtà io ritengo sia un'opportunità perché oggi la Rosa è comunque al completo per l'allenamento e spiego perché perché a questa cosa tengo molto perché sapete che io opero nel settore giovanile questa è l'opportunità per tanti giovani di giocarsi le proprie possibilità e farsi conoscere dallo staff tecnico e dall'allenatore quindi per questi giorni di lavoro tutto il tipo di attività che stiamo facendo la stiamo facendo a pieno regime grazie ai ragazzi anche integrati dalla primavera che hanno un'opportunità importantissima da portarsi avanti è ovvio e poi ho già risposto che chiaramente andremo poi da qui alla fine del mercato in relazione ai tempi a nostra disposizione ad intervenire nelle necessità di cui abbiamo già parlato è logico è chiaro quello che dice Jacopo cioè è stata costruita una rosa l'anno passato per un un certo modulo e quest'anno a me non piace mai parlare di moduli parlo sempre di occupazione degli spazi però in questo caso nel momento in cui ci siamo incontrati col presidente e con Jacopo mi è stato chiesto qual è il modulo che sento più mio e naturalmente il 4-3-3 così rispondo in parte anche alla domanda di prima non mi spaventa il doverci sentir dire aspettiamo per vedere in che categoria facciamo e questo ce lo risponderanno tutti i giocatori che andremo a contattare è naturale però ritorno al discorso di prima a me interessava intanto per quelli che vogliono rimanere in maniera assoluta a Perugia ritornarli a fare sorridere non è la parola giusta però fargli capire che si può ripartire che si può rinascere che si può ritornare ad essere protagonisti naturalmente sapevo di dover vedere alcuni giovani e vi garantisco che qualcuno sono veramente interessanti mi ero preso questi giorni fino al primo di agosto che partiamo per ritiro che avrei voluto valutare tutti quanti quindi quello che sembra in questo momento difficoltà di mercato come dice Jacopo sono cose che ci servono tanto è fondamentale anche vedere qualche giovane era fondamentale capire chi ha voglia di rimanere io batto sempre il tasto lì perché è una cosa per me fondamentale e questo tempo ci è servito quindi è logico ritornando alla domanda che ci siano in questo momento dei vuoti da colmare vi posso garantire che stiamo lavorando non so quante ore al giorno e quindi non dormiamo sotto il punto di vista delle idee è logico che abbiamo delle idee e magari parliamo già con delle persone o con degli agenti o con abbiamo delle idee per la serie B abbiamo delle idee naturalmente per quello che sarà dovesse essere speriamo di no la Lega Pro e quindi non è che ci trova o che ci troverà impreparato questa sentenza Antonello Ferroni messaggero una domanda anche in questo caso per entrambi dal punto di vista personale quali sono i vostri obiettivi perché comunque Jacopo è il primo anno diciamo tra i grandi nel calcio importante per quanto riguarda il mister ne conosciamo le qualità umane prima di tutto che sono notevoli ma lo conosciamo poco invece dal punto di vista tecnico dell'allenatore quindi diciamo che forse posso immaginare che una serie B potrebbe essere un importante rampolino di lancio anche da questo punto di vista e poi ecco qual è l'obiettivo di squadra sia per la B che per la C mi rendo conto che è una domanda difficilissima in questo momento senza una rosa compiuta e ancora lontani dal sapere la categoria però ecco se avete un'idea Buonasera Antonello allora io come giustamente sottolineavi vengo da un altro percorso che è quello di settore giovanile e sono abituato a pensare alla quotidianità ritengo che sia giusto attraverso l'impegno e la valutazione quotidiana porci degli obiettivi giornalieri che poi nel momento in cui ci sarà il campo a nostra disposizione indipendentemente dalla categoria definirà quelli che sono gli obiettivi di squadra non siamo qui e secondo me non è corretto farlo perché in uno sport di situazione come il calcio è bene non fare proclami e non parlare di previsioni andiamo in campo ci impegniamo e dimostriamo che cosa potremo fare tireremo una linea subito il 30 giugno del prossimo anno e vedremo che cosa saremo stati capaci di fare le mie ambizioni le mie ambizioni sono sempre stato un ambizioso nella vita e quindi le mie ambizioni personali sono da quando ho iniziato questo mestiere e vi assicuro che non avrei potuto fare nient'altro nel senso che dopo una certa carriera uno dice ok faccio il dirigente io sono un amante del campo non sono un amante di nient'altro che di quello che fa parte del calcio sono innamorato di quel campo mi frega quel campo è come se fosse la donna più bella del mondo e sono stregato da quel tipo di lavoro e l'ambizione naturalmente è quella di ritornare dove sono stato da calciatore ok ma sto facendo una gavetta importante perché ho fatto il settore giovanile nel Bologno ho fatto il settore giovanile nella Roma ho fatto il settore giovanile nella Juventus sono partito dalla serie D con i grandi l'ho assaporata la serie B a Trabani ma sono stato esonerato e voi sapete che ogni esonero è un'ammazzata sui denti che ti fa migliorare l'anno scorso ci è mancato poco per fare il miracolo a Vicenza e rimanere in serie B non ci siamo riusciti quest'anno sono stato esonerato quindi la gavetta che sto facendo è una gavetta di miglioramento come tutte le gavette di questa cosa per quanto riguarda il Perugia ho accettato Perugia e eravamo già d'accordo col presidente sia in Lega Pro che in serie B non ho fatto una questione di categorie è logico negarsi che se fosse serie B sarebbe una soddisfazione per tutti quanti ma non farebbe altro che aumentare la voglia di far bene quindi aumentare la voglia di far bene in una piazza che ha sofferto tanto dopo una stagione dove io sono stato retrocesso quindi c'è tutte le premesse per cercare di 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 imporsi sia io come allenatore sia il Perugia in una categoria che speriamo sia quella della serie B e non rischiare quello che ha retrocesso che è successo l'anno scorso quindi queste componenti non possono far altro che cercare di ottenere il massimo e questa è la cosa più importante Enrico Fanelli Perugia Today e Tifo Grifo volevo possibilmente fare una domanda a entrambi ricollegandomi alla domanda che ha fatto il collega ci sono state due rescissioni di giocatori diciamo importanti come Casasola e Sgarbia al mister volevo chiedere cosa ne pensa appunto di di cosa è avvenuto di quello che è avvenuto e a Jacopo volevo chiedere se ci può spiegare le motivazioni perché la formula magari ci poteva stare questo addio magari la formula che a me personalmente almeno mi ha accorto un po' di sorpresa insomma grazie e lo dico in maniera molto decisa abbiamo convenuto insieme a ragazzi per due motivazioni differenti Filippo riteneva concluso il proprio percorso calcistico ed esperienziale all'interno del nostro club e non dobbiamo stare dietro ai tempi del mercato secondo me abbiamo ritenuto per dare un segnale chiaro e deciso anche alla squadra che fosse venuto il momento di porre fine ripeto in maniera assolutamente colloquiale con da entrambe le parti che questo potesse essere un'opportunità sia per noi che per Filippo e quindi è questa la tempistica e la decisione Tiago invece è stato un rapporto diverso e la scelta è legata a un duplice fattore uno di carattere diciamo così tecnico-tattico probabilmente abbia ritenuto che Tiago non fosse ideale per il nostro sistema di gioco e per il professionista e la serietà del ragazzo come peraltro anche Filippo abbiamo visto la sua anche volontà di rientrare in Argentina o almeno questo è stato quello che ha espresso a noi ragazzo abbiamo ritenuto anche in quel caso che nei tempi fosse giusto non trascinare a lungo perché poi abbiamo ripeto la necessità della qualità quotidiana del lavoro io penso di averti già risposto prima perché nel momento in cui con la massima professionalità e la massima serietà un giocatore chiede di voler ritornare in Argentina e l'altro chiede di voler andare via poi dopo non sta a me la trattativa io sono allenatore e voglio allenare gente che è pronta a morire in campo per il Perugia poi il resto mi interessa poco le trattative non le faccio io Carlo Giulietti associazione Vecchia Guardia in azito benvenuto Carlo grazie preveniamo da una stagione un pochino difficile molto difficile però quando si cade nel calcio come nella vita occorre rialzarsi prendere la bandiera e tornare all'assalto questo ce l'hanno insegnato Perugia una piazza che ha vissuto tanto alte e bassi c'è un clima un ambiente da compattare questo lo sanno tutti e questo penso sia molto importante ci sarà un passaggio anche di modulo 433 occorre professionalità occorre impegno occorre spirito identità appartenenza c'è un segreto secondo voi per attuare queste cose che in sintesi ho accennato tutti gli allenatori del mondo in questo momento ti risponderebbero il lavoro è scontato che sia quello però però c'è modo in modo di lavorare ok la sintonia che c'è subito che è subito nata con Jacopo io vengo vi ho detto prima dal settore giovanile lui viene dal settore giovanile ma è questa voglia incredibile di lavorare io penso di essere riconosciuto come allenatore una delle cose per cui vengo riconosciuto è per quanto sto dentro a quell'ufficio là perché io arrivo la mattina prestissimo e vado via la sera tardissimo ho trovato uno che arriva prima di me e va via dopo di me quindi cosa voglio arrivare a dire con questo che lavoreremo in maniera incredibile io Jacopo e la mia squadra ve lo assicuro per cercare di fare il massimo poi si vince si perde ma lavoreremo per fare il massimo per cercare di proporre un certo tipo di calcio per far venire alla gente allo stadio e divertirsi naturalmente poi dopo contano i risultati però conta anche una certa idea conta il vedere in campo una squadra che ha voglia di andare a rubare il pallone agli avversari conta il vedere una squadra a proposito per me contano queste cose poi dopo perdi tre partite ti manda via non c'è niente fa parte del mio lavoro ok fa parte del mio lavoro però io penso che queste siano cose che contano e per me si può ripartire da questo io con i giocatori sono ripartito da questo cioè da una metodologia di allenamento che sia orientata a far questo cercando di portarcela poi in campo ora domani faremo la prima partita fra di noi proprio perché voglio vedere due squadre una sarà composta ve lo dico già dai più giovincelli l'altra da quelli che vengono dalla stagione dell'anno scorso se lo faccio apposta di scegliere questa metodologia di proporre la partita domani perché voglio vedere i ragazzetti che vanno forte a 2000 all'ora pronti a rubare il posto a quelli più grandi e quelli grandi che si devono adattare perché se no i ragazzetti li rubano il posto io nasco dal settore giovanile e non sto a guardare se uno è del 2004 o uno è del 92 chi va forte gioca ok quando la squadra percepisce questo qui è una squadra che andrà sempre forte in allenamento poi le partite ripeto si vincono e si perdono a questo aggiungo semplicemente che ho una fortuna io sono perugino e penso di conoscere la storia del Perugia abbiamo una fortuna enorme siamo una delle poche società che questa storia l'ha grazie al nostro presidente realizzata all'interno di un museo è bene che ogni giocatore che arriverà a Perugia compresi quelli che già sono qui sappiano che cosa significa indossare la maglia del Perugia e portarla avanti nella quotidianità del lavoro come ha spiegato il mister in campo e in tutti i giorni nella quotidianità extra campo due cosette veloci una mister si è avuto modo di parlare di confrontarsi in questi giorni con Santo Padre che tipo di sensazioni ha anche rispetto alla quotidianità che ha col presidente poi mi rendo conto che non sia stato ancora ufficializzato per oggi si è allenato Bozzolan volevo chiedervi perché si sta decidendo di puntare su questo giocatore che tipo di impatto crediate potrà avere nel Perugia grazie allora per quanto riguarda il press non è tanto che l'ho conosciuto mi piacciono le persone mi piacciono le persone schiette vanno d'accordo con me le persone schiette sono sicuro sono sicuro che avremo da discutere ok ma ho di fronte ho di fronte una persona sotto questo punto di vista vero sotto il punto di vista calcistico vera oggi parlavo con un presidente Jacopo lo sa mi ha chiamato un presidente di una squadra che è una neopromossa in Lega Pro è stato l'unico presidente da quando alleno che ho buttato fuori dallo spogliatoio che è il presidente del Sestri Levante risaliti e che abbiamo una stima reciprocola clamorosa perché vi ho fatto questo esempio perché sono convinto che con il press avremo un rapporto schietto sono convinto che molte volte in maniera molto civile ci chiariremo e parleremo però io ho bisogno di questo tipo di persone vicino a me ho bisogno di questo tipo di persone dentro a quello spogliatoio di quei ragazzi perché io amo il confronto non sono una persona semplice in un confronto perché perché lo cerco perché lo voglio perché vivo di confronti e questo succederà anche col presidente perché si vede che è questo tipo di persona poi dopo impareremo a conoscerci durante la stagione Buonasera Domenico Cantarini Rete Sole Corriere dell'Ungra salve mi scuso se l'argomento è stato già toccato perché sono arrivato 5 minuti in ritardo però credo è una domanda che può andare bene per entrambi nel senso che comunque è una situazione qui indubbiamente particolare anche per il calcio che è già di particolare di per sé perché c'è comunque stata una retrocessione c'è una società che è indubbiamente ormai invisa a gran parte della piazza c'è una trattativa per la cessione e c'è questa incertezza insomma della categoria quindi tutte le questioni giudiziarie quindi mi chiedo per voi per motivi differenti un po' perché come dicevamo il direttore è la prima esperienza tra i grandi un po' anche per lei mister insomma perché al di là di tutto di tutta l'esperienza comunque penso che una situazione del genere sia abbastanza singolare mi chiedo se sono più le difficoltà che dovete affrontare quindi un po' diciamo i timori delle cose da driblare mettiamola così oppure se gli stimoli superano queste difficoltà io chiedo scusa ma sono costretto a uscire dai luoghi comuni io non conosco un ambiente calcistico anche per chi ha anni di esperienza dopo che le cose vanno male in campo non ci sia qualcosa di complicato la verità è una noi ci dobbiamo impegnare nella quotidianità pensare al campo e fare risultati tanto saremo sempre giudicati per questo l'ambiente difficile è un'opportunità la qualità di un dirigente e la qualità di un allenatore risiede anche nella capacità di trovare soluzioni e risolvere problemi quindi io la ritengo una grandissima opportunità sia per me che per il nostro allenatore io ti rispondo che se pensassi a tutte le cose che mi hai detto te forse stavo con mio figlio e non venivo mi frega quello che ho detto prima la passione di quel campo lì e mi frega l'essere una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno faccio una fatica a vedere il bicchiere mezzo vuoto che è incredibile quindi la mia pazia perché poi coinvolgo anche quegli altri matti del mio staff è quella di accettare Catania non sapevamo neanche se ci si iscriveva al campionato e ci hanno levato a tre giornate dalla fine di dopo la primavera della Juventus accettare Trapani una società che a fine dell'anno è fallita però io vado a istinto vado a istinto e il direttore lo sa che c'era altre trattative per quanto mi riguarda ma ho detto al direttore a Jacopo scusate ho detto più volte a Jacopo io vengo a Perugia se te mi chiedi il perché non lo so sarà perché ci sono stato da calciatore sarà la storia sarà le sensazioni che ho avvertito però se mi mettevo a ragionare su tutto quello che mi hai chiesto a te non sarei assolutamente venuto non mi interessano cioè mi interessa ricostruire mi interessa ricostruire insieme alla società insieme a Jacopo insieme al press mi interessa ricostruire e mi piace un sacco non so come spiegartelo mi piace proprio tanto il pensare di ricostruire qualcosa poi se avremo la fortuna di farlo in B sarò l'uomo più felice del mondo se no dovrò farlo in C ma non è una cosa che mi spaventa cioè mi piace proprio pensare di ricostruire un rapporto mi piace proprio vedere la tribunetta quando io alleno che ora c'è 10 persone mi immagino di vederla con 150 è lo stadio che è la prima giornata non lo so ci sarà contestazione ci sarà magari non lo so faccio un esempio poca gente magari arrivare all'ultima giornata dove è pieno è proprio una cosa che mi stimola questo e quindi cerco di trasferirlo ai ragazzi spero di riuscirci le idee sono molto chiare su quelle che possono essere allora abbiamo ragionato prima su non mi ricordo chi ha fatto la domanda sul giovane del Milan che è arrivato ok è logico che in questo momento io faccio un altro mestiere ma è logico che in questo momento sia più facile convincere il giovane appena diventato campione europeo under 19 portarlo a Perugia perché viene contattato dal Perugia gli altri ti rispondono aspettiamo di vedere qual è la categoria è la normalità però le nostre idee le nostre idee sono quelle che mi hanno fatto firmare il contratto perché naturalmente le chiacchiere che sono state fatte e ora sono solo chiacchiere sono state fatte molto chiaramente cioè se io ho firmato un contratto è perché sono consapevole che la società mi metterà a disposizione gli altri 10 giocatori che dovremmo prendere e abbiamo le idee molto chiare anche su che tipo di giocatori dobbiamo prendere perché se vogliamo fare un certo tipo di calcio abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche che sono magari diverse da quelle di altri 10 allenatori quindi c'è questa volontà e per ora è solo una volontà ma è una volontà perché è bloccata dal momento quindi io sono molto sereno sotto questo punto di vista buon pomeriggio Lorenzo il direttore doveva rispondere allora sottoscrivo intanto mi scuso non abbiamo risposto alla domanda su Andrea attendiamo è la verità è un ragazzo che abbiamo seguito ritengo sia uno dei laterali sinistri migliori del campionato primavera dello scorso anno con già esperienze importanti nella prima squadra del Milan attendiamo l'ufficialità ma è un ragazzo che storicamente per il tipo di attitudine avete visto passare all'interno di questo club e dobbiamo secondo me ripercorrere quella strada tantissimi giocatori che poi abbiamo visto giocare in serie A alcuni dei quali addirittura a livello europeo e quindi speriamo Andrea ha il potenziale e questo mi assumo la responsabilità di quello che dico e poi dovrà dimostrare se questa cosa in quanto tempo avverrà e se avverrà lì ci sarà sempre il campo a parlare riteniamo che sia un ragazzo giovane che già a livello europeo con il club dal quale proviene e con la nazionale abbia già dimostrato le sue qualità è chiaro che è un giovane non riversiamo su di lui ovviamente grandissime aspettative e non pensiamo ovviamente che faremo una squadra di 2004 cito solo un nome però Fabian lo scorso anno a Reggio è un 2003 che ha fatto benissimo e anche lui veniva dalla primavera quindi non è detto contano le caratteristiche e le qualità dei giocatori e non l'età rispondo all'altra domanda ad oggi il criterio di scelta oltre le caratteristiche dei giocatori è legato alla determinazione che i ragazzi ci dimostreranno in campo non ci sono giocatori in vendita da parte nostra c'è la volontà di valutare nella quotidianità chi dimostrerà la volontà di rimanere a Perugia indipendentemente dalla categoria Buon pomeriggio Lorenzo Pelucco Umbria TV per il direttore la domanda riguarda più che altro appunto il mercato avete comunque già individuato delle priorità a livello quantomeno di ruoli dove appunto è più necessario intervenire e poi per il mister riguardo la programmazione del lavoro ha fatto riferimento a una partitella che appunto ci sarà domani in famiglia se insomma state stilando magari anche un calendario di amichevoli perché penso che insomma terminata diciamo la parte più prettamente fisica poi appunto bisognerà iniziare a lavorare di più anche sull'aspetto tecnico tanti Sì in parte l'abbiamo già detto il mercato è una questione di opportunità ha una durata lunga le caratteristiche e il tipo di scelta che andremo a fare con il nostro presidente è legata ovviamente a alcune priorità di cui abbiamo già parlato in questo momento abbiamo identificato dei profili dobbiamo capire e è inutile che ci giriamo intorno l'abbiamo detto più volte quelle che saranno quelle che saranno i tempi e ovviamente il tipo di categoria che andremo ad affrontare ho già consegnato l'altra settimana quindi sono cavoli suoi ve la dovete prendere con loro ho già come no a parte di scherzo ho già consegnato l'altra settimana la lista di quelle che saranno i giorni di allenamento e le amichevoli addirittura io sono abituato e lo faremo anche quest'anno a fare in due giorni due amichevoli perché voglio fare arrivare tutti a fare almeno 90 minuti quindi un giorno giocherà una squadra il giorno dopo giocherà totalmente un'altra e faranno i 90 minuti però sono già programmate mi sembra che la prima è il 3 la seconda il 6 ogni 4 giorni ogni 3 giorni giochiamo quindi sono già tutte programmate poi le renderemo ufficiali ma comunque saranno squadre di serie D serie C a crescere abbiamo già identificato praticamente tutte le amichevoli allora due curiosità poi ha detto Francesco Baldoni che ce ne dobbiamo andare quindi allora intanto complimenti a Jacopo Giugliarelli per questa determinazione quindi un giovane con le idee molto adulte le sensazioni a poche settimane da questo ruolo così prestigioso che il presidente Massimiliano Santopadre gli ha conferito al Francesco Baldini che gli diamo il benvenuto un buon lavoro ci auguriamo solo ecco questo è un buon augurio che la piazza credo che si meriti di vedere un calcio con un verso ecco un verso che riporti quell'entusiasmo che forse Perugia qualche anno ha vissuto la curiosità è che visto che lei nasce a Massa e 15 anni più giovani di Silvio Baldini c'entra qualcosa una parentela oppure così evadiamo queste cose subito grazie a Massa c'è grazie a lei a Massa c'è un paesino storico dove si rifugiarono i partigiani al tempo della guerra che si chiama Resceto che ci sono tutti Baldini ok è un paesino penso di 150 anime veniamo tutte e due da lì è impossibile che non ci sia una parentela è impossibile c'è grande stima c'è grande stima col mister a prescindere da queste cose che è la realtà è la verità veniamo tutte e due da Resceto che è un paesino sopra massa siamo duri come il marmo tutte e due abbiamo tante cose in comune c'è grande stima e per quanto riguarda il tipo di calcio ripeto so e conosco la storia la storia del Perugia e quando ho detto prima il Perugia è abituato Perugia e il Perugia è abituato il Perugia a fare un certo tipo di calcio secondo me a proporre un determinato tipo di calcio e il Perugino che viene allo stadio so che apprezzo a un certo tipo di calcio ma penso di essere stato scelto penso di essere stato scelto anche per questo poi dopo starà a me riuscirci e non è facile però ce la metterò tutta grazie allora intanto chiariamo in maniera importante ad oggi ovviamente c'è grande senso di responsabilità ad oggi condividiamo col Presidente questo percorso dal quindi io sono semplicemente un dirigente che viene dal settore giovanile che dal primo di settembre o comunque da settembre sarà iscritto al corso da direttore sportivo quindi ad oggi ripeto faremo questo tipo di attività quindi un dirigente che con il Presidente porterà avanti il discorso della squadra e c'è grande senso di responsabilità fare questo genere di esperienza a casa propria nella squadra di cui si fa il tifo in cui si è cresciuti e ha visto un certo tipo di calcio porta senso di responsabilità emozione e impegno poi bisogna quotidianamente far parlare il campo grazie a voi grazie a voi